Ieri Vincenzo De Luca ha preso in giro Matteo Salvini durante la sua diretta su Facebook Il governatore della campagna ha, voglio dare un'informazione a un politico milanese che è disinformato Ricordo a questo esponente del nord e del sovranismo che va in giro per l'Italia per farsi guardare gli occhiali in due avi, occhiali color pannolino di Biendo, che noi abbiamo varato un programma per quasi 70 milioni di euro Ieri sera il leader della Lega ha risposto per le rime al presidente. Penso che i cittadini della campagna si aspettino dal loro governatore azioni concrete per sistemare gli ospedali aperti e riaprire quelli chiusi, visto che anche l'anno scorso decine di migliaia di campani hanno dovuto spostarsi in altre regioni Per visite, esami ed operazioni Se invece De Luca preferisce polemizzare sul colore dei miei occhiali confesso che, come milioni di italiani, ho problemi di vista e sono presbite Per De Luca è un problema Grazie a tutti Grazie a tutti